Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 ricordiamo che sono chiuse le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, con chiusura dello svincolo di Firenze in prunita. Sul tratto potrebbero crearsi disagi. Sulla FIPILI per lavori in rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Lastra, segna in direzione Firenze. I treni per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione tra Prato e Pistoia, i treni regionali potrebbero subire ritardi o variazioni. La viabilità cittadina a Firenze invia Reginaldo Giuliani per lavori alla rete di energia elettrica. La strada sarà chiusa da via Baroni a via della Pietraia fino a domani. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!